Ciao, io sono Annelirfa e oggi mi trovo su Nightingale. Oggi ragazzi vedremo come iniziare al meglio questo gioco, quindi trucchi e strategie che possiamo andare a utilizzare all'inizio. Iniziando ci farà fare un tutorial e quindi in breve tempo riusciremo a uscire dal tutorial e scegliere il reame dove vogliamo andarci poi a stabilire con la nostra prima base. Vediamo subito come inizia il gioco. Allora il gioco a inizio come tutti quanti i giochi ci farà scegliere il nostro archetipo ossia il nostro personaggio. Lo possiamo fare femmina o maschio e abbiamo poi diverse opzioni di poter scegliere tra capelli, colore degli occhi, ovviamente vise, l'età e tante altre cose. Una volta costruito il nostro personaggio come meglio vogliamo crearlo, inizieremo il nostro percorso all'interno di una grotta. Poco dopo usciremo da essa e inizierà proprio il vero e proprio tutorial. Quindi dovremo compiere alcune azioni che ci spiegheranno un po' tutto il funzionamento del gioco. Dunque vi faccio subito notare alcune cose dell'interfaccia. In alto, al centro, abbiamo la solita bussola che ci può condurre nei punti cardinali. In basso, a sinistra, abbiamo in rosso la vita. Poi abbiamo quanto abbiamo dormito, quindi questa sarà una cosa abbastanza importante, poi la vedremo magari più avanti in che modo. La nostra barra verde che ci dirà quanto avremo mangiato, quindi quanto saremo sazi. I tastini numerici al centro. E queste a primo acchito sono le prime cose che vado a vedere qui nell'interfaccia. Ma eccoci arrivati qui in fondo alla grotta che andiamo subito a incontrare il personaggio principale di questo tutorial che ci accompagnerà e ci spiegherà le cose principali per affrontare al meglio il gioco. In poche parole, il tutorial ci accompagnerà a visitare tre regni, che sono i tre regni principali che dovremo affrontare, ossia la foresta, la palude e il deserto. Poi inconteneremo finalmente il macchinario. Questo macchinario ci servirà per poter costruire i portali. Quindi andando a inserire all'interno di questo macchinario le carte, possiamo creare un portale che ci porterà nei vari regni. Ora lo vediamo meglio. Ovviamente qui nel tutorial abbiamo già a disposizione le carte, quindi basterà semplicemente aprire il macchinario, andare a trascinare le carte, ne serviranno due, e ci farà subito il portale, ce lo creerà e quindi possiamo entrare dentro e andare a visitare il primo reame. Allora, abbiamo fatto aprire il portale e vedete che qua si è creato. Per entrare basterà semplicemente andarci dentro e quindi vi teletrasporterà nel nuovo regno. Allora ragazzi, siamo arrivati nel primo regno, ossia quello della foresta. Allora, arrivati qua iniziano le nostre missioni. Dobbiamo andare a trovare le bacche e poi andarle a cucinare. Operazione molto facile perché comunque sono subito qui a disposizione. Vedete che bei cervi che ci sono. Basta semplicemente avvicinarci, come tutti gli altri giochi survival, alle piante, ai rametti e raccoglierli semplicemente. Quindi molto semplice. Dunque, qui la missione ci diceva appunto di andare a ottenere delle rocce, dei legnetti, tutta roba che troviamo semplicemente a terra, e poi delle bacche che poi dopo, come vi dicevo, dovremmo andare a cucinarle. Quindi iniziamo subito un po' con la parte un po' più, tra virgolette, difficile, ossia andare a cucinare i materiali che abbiamo appena raccolto. Quindi facendo il tasto B, per quanto riguarda ovviamente il PC, andiamo ad aprire il menu di fabbricazione o di costruzione. Allora, iniziamo subito col fare il fuoco da accampamento. Quindi i materiali per poterlo fare ce li abbiamo perché servono sei rocce, quindi la missione ce le faceva anche andare a raccogliere apposta. Scegliamo uno spazio dove vogliamo andare a posizionare il nostro falò, e quindi andiamo subito ad aggiungere in maniera automatica le risorse, ossia le sei pietre, e così a fabbricare il nostro bellissimo campfire. Una volta fatto questo, andiamo a cercare la ricetta delle bacche arrostite. Al momento ho solo questa ricetta. Semplicemente qua dobbiamo andare a mettere i mirtilli, che poi sarebbero le bacche, e andarli a craftare. Per farlo ci servono 5 secondi di tempo, e poi ci farà il nostro piatto di mirtilli. Dunque, una volta che abbiamo fatto finalmente i mirtilli cotti, salterà, andrà avanti più che altro la quest, e ci chiederà di mangiarli. Per mangiare il piatto di mirtilli, dobbiamo semplicemente cliccare il tasto corrispondente, e fare poi il tasto F. A questo punto ci ritornerà davanti Puck, ossia il personaggio dell'inizio, ci spiegherà un po' cosa serve andare a mangiare, e tante altre cose. Comunque, la parte principale che dovremmo andare ad affrontare, è che dobbiamo andare a trovare il portale. Allora, in mappa troviamo dove si trova. Vedete qua in mappa c'è un segnetto rotondo, ecco, portale, e quindi dobbiamo dirigerci proprio là. Quindi, come ho spiegato altre volte, ogni volta che vogliamo andare a cambiare reame, dobbiamo andare a utilizzare questo macchinario speciale, e poi ovviamente le carte. Ora, nel tutorial, le carte le abbiamo già belle che fatte, quindi dobbiamo semplicemente andarle a posizionare, come abbiamo fatto in precedenza, e quindi anche questa volta si formerà il portale che ci porterà nel secondo reame. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, un po' non mi piace, devo dire, come cammina il personaggio, sempre molto curvo, però hanno scelto di fare questo tipo di animazione. Dunque, una volta arrivati nel secondo reame, ossia il reame del deserto, rincontriamo il nostro amico che ci darà alcune ricette nuove, tra cui la tenda. Per fare la tenda dovremo semplicemente andare a raccogliere i legnetti. Nota importante, qui nel deserto avremo molto caldo, quindi non dobbiamo prendere l'insolazione, quindi dobbiamo cercare di stare nelle parti dove c'è più ombra possibile. Quindi vi suggerisco, se siete così all'inizio come ho fatto io, di correre verso la prima costruzione che vedete, questa qui in fondo, praticamente perché ci dà un po' di ombra, o perlomeno c'è l'ombra. Anche qui va benissimo, perché, vedete, è una zona d'ombra. E quindi qui, tranquillamente, nel nostro spiazzale qua, possiamo andare a costruirci la nostra tenda e quindi completare questa parte della missione. Per farlo ci servono 12 legnetti, quindi basterà semplicemente andarle a raccogliere qui a terra e pieno e poi mi sembra la fibra. Quindi andiamo a fare tranquillamente la nostra tenda. Quindi come abbiamo fatto in precedenza per il campfire, quindi il fuoco da campo, ora andiamo a costruirci la tenda. Una volta posizionata la nostra tenda ci darà una nuova ricetta, ossia quella per fare il sacco a pelo. Quindi anche questo qui sarà molto importante andarlo a fare, perché come vi spiegavo prima, andare a riposare sarà una cosa fondamentale in questo gioco. Quindi andiamo a costruirlo e poi andiamo avanti con le missioni. A questo punto ci darà un voto di ricette nuove, vedete, l'ascia, il coltello, la falce, la fiaccola e il piccone laminatore. Ovviamente dovremmo andare a costruire tutto, però non vi spaventate perché comunque è molto semplice, perché sono sempre i soliti materiali che troviamo qui in zona, ossia il legno, i legnetti, la fibra e le rocce. Una volta fatto poi il piccone e l'ascia possiamo andare a prendere la legna un po' più grande dagli alberi e con il piccone le rocce più grandi. Allora, come vi dicevo prima, qua nel deserto le cose cambiano, aumenta un pochettino più la difficoltà, perché mano a mano che andremo avanti con i vari biomi oppure regni, chiamateli come volete, le difficoltà aumenteranno. Qua l'unica difficoltà è appunto, come vi dicevo prima, quella della presenza del sole che ci creerà delle problematiche. Quindi basterà semplicemente, inizialmente, stare all'ombra. Quindi andiamo a raccogliere tutte le risorse di cui abbiamo bisogno e andiamo poi a craftare i primi utensili. In pratica, ragazzi, dobbiamo andare a fabbricarli tutti quanti, perché la missione ce li richiede tutti. Quindi, come vi dicevo prima, non è tanto difficile, perché richiedono sempre i soliti materiali. Quindi adesso andiamo a farli tutti e poi andiamo avanti. una volta che abbiamo fatto tutti gli utenti, ci riappare il nostro amico Puck, che praticamente ci spiega che abbiamo fatto un buon lavoro, eccetera, e comunque ci dice che dobbiamo andare a trovare il portale per andare in un altro regno. Quindi andiamo a trovarlo nella maniera in cui abbiamo fatto prima, ossia aprendo la mappa e vedendo dove si trova. e quindi andremo a trovare di nuovo il macchinario e a inserire le carte. Eccolo qui, il nostro macchinario, non era tanto lontano, per fortuna, e quindi andiamo a utilizzarlo. Come vi dicevo, le carte gialle abbiamo. Abbiamo preso anche dei debuff, perché in acqua credo che si vada molto più lenti, però comunque andiamo ad aprire. Ecco le carte, vedete che abbiamo la carta nuova della palude, quindi andremo nel regno della palude, che è il terzo regno e ultimo che andremo a visitare qui all'interno del tutorial. Allora, il portale si è creato, io vado lentissima perché mi sono strarimpita di materiali, però questa è la solita storia per quanto mi riguarda nei vari giochi. Dunque, allora, il movimento in questo gioco vi dicevo che è un po' buffo e goffo. Comunque, dettagli, scusate, non il deserto, ma la palude, che è questo terzo regno, è il più difficile, perché qui cominciamo a incontrare fin da subito delle creature. Vedete che sono questi mostri qua davanti, vabbè, mostri, sono dei grandi animali che non ho capito bene se sono dei canguri o che cosa sono, però li dobbiamo andare a uccidere e procurarci con essi le ossa, la carne e la pelle. Dunque, allora, una volta che abbiamo ucciso l'animale dobbiamo utilizzare gli utensili che abbiamo creato per farlo e andare a utilizzare il coltello per andare a scuogliare. Ha un movimento un po' buffo e goffo, come vi dicevo, però comunque, vabbè, vi dà per terra la carne e le ossa. Quindi, incominciamo a fare la nostra missione che consiste nell'andare a raccogliere 3 e 3 di ossa e di pelle, ossia andare a ammazzare chiamiamoli questi canguri un po' strani e procurarci i materiali. Al momento non ho una vera e propria arma quindi andrò a utilizzare l'ascia e comunque fa un bel danno. Allora, come avete visto, questi canguri chiamiamoli così aia, no, vabbè, dai, non ero preparata. Sono abbastanza forti quindi bisogna agire subito e colpirli il primo possibile, praticamente che loro ti colpiscono. Siamo morti così vediamo cosa succede quando andiamo a morire. Allora, prima scoperta è stato che abbiamo svuotato, quindi perso tutto dall'inventario tranne le cose che avevamo messo in barra. Quindi le cose che abbiamo in barra ci rimangono. Quindi andiamo a vedere se riusciamo a capire dov'è il nostro luogo della morte e vedete che comunque è ben chiaro il punto dove si trova in mappa. e anche sullo schermo. Vabbè, dai, uccidiamolo adesso perché eravamo impreparati prima. Ci ha accolto di sorpresa proprio. Allora, andiamo a prendere ancora le ossa e la carne e quindi poi dobbiamo trovarne un terzo e quindi faremo esattamente la stessa operazione. Una volta quindi che abbiamo trovato il terzo canguro e scuoiato e raccolti i materiali, la quest sarà finalmente completata. A questo punto ci chiede di andare a fare un coprispalle perché abbiamo raccolto la pelle quindi possiamo andare a craftarcelo. Quindi apriamo tramite il pannello B la fabbricazione o le costruzioni se mi ricordo bene dove che fosse. Cerchiamo un attimo e ci dà eccolo qua il coprispalle rudimentale. Vedete, ci serve 3 di pelle e fibra vegetale quindi ce l'abbiamo e andiamo subito a farlo. Pratica adesso una volta abbiamo fatto questo coprispalle dobbiamo andare a cucinare Aya ed è arrivato il canguro ti pareva? Comunque dobbiamo andare a cucinare la carne che abbiamo appena raccolto. Questa è un'operazione molto facile dobbiamo anche metterci poi la legna per accendere il fuoco e che sarebbe il combustibile e quindi funziona come abbiamo fatto prima per quanto riguarda le bacche quindi non ve lo sto a rispiegare. Una volta cucinata la carne ci chiederà di andare a fare un unguento che ci servirà per andare a ripristinare la salute. A questo punto non riuscivo proprio a farlo e non capivo il perché perché i materiali li avevo come potete vedere. Ho scoperto poi in seguito che praticamente se piove la pioggia spegne il fuoco e quindi non possiamo andare a fabbricare la roba da mangiare quindi ho dovuto costruire il tutto sotto un tetto. Dunque a questo punto possiamo andare a fare il nostro unguento utilizzando le ossa e poi la fibra quindi abbiamo già tutto e lo andiamo a fare. Vedete che c'era questa costruzione quindi ho fatto il fuoco da campo qua perché c'era un tetto quindi non abbiamo problemi se va a piovere quindi non dobbiamo fare se non erro tre esatto. quindi andiamo a farle tutte e tre e quindi dovremmo aver terminato la nostra missione. Ora ci chiede di andare a ottenere la polvere di essenza. Quindi per ottenere la nostra polvere di essenza dobbiamo semplicemente andare ad aprire l'inventario cliccare su un qualsiasi oggetto e ogni oggetto ci darà della polvere di essenza ovviamente andrà distrutto l'oggetto che andiamo a scegliere e quindi ho ottenuto velocemente la polvere di essenza utilizzando questo tipo di materiali. Ok allora anche questa missione è stata compiuta quindi dobbiamo andare di nuovo a parlare con Puck qui il nostro istruttore Puck ci spiegherà che ormai abbiamo visitato i tre regni e quindi siamo pronti per scegliere la nostra dimora dove praticamente andremo a costruire come vi dicevo all'inizio la nostra prima casa quindi dobbiamo trovare di nuovo il portale e fare una scelta scegliere tra la foresta il deserto e la palude io sceglierò la foresta perché è la parte più facile da andare a affrontare quindi visto che siamo all'inizio conviene scegliere la foresta appena sono arrivata davanti al portale ovviamente è uscito il solito cangurone mi ha uccisa ma dettagli allora eccoci qui che entriamo finalmente dentro il regno scelto e quindi abbiamo terminato così il tutorial vi ringrazio per la visione ovviamente ragazzi se avete domande fatele qui sotto nei commenti se volete vedere altri video su questo gioco vi consiglio di iscrivervi subito al canale attivando tutte le campanelle in modo che rimanete sempre aggiornati su tutti i video che vado a mettere ciao e ci vediamo per un prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti